andiamo qui per parlare del primo racing podcast stagionale per quanto riguarda i post gara con una delle gare più belle e più equilibrate che la superbike abbia mai offerto nel corso degli ultimi anni tra i vincitori diversi tra sabato e domenica su tre competizioni c'è veramente tanto da dire e dunque benvenuti al primo post gara della superbike ai microfoni Matthew Torgard, prima gara della stagione di superbike che si è svolta nel tradizionale ormai circuito di Phillip Island di cui vedrete la sovraimpressione in questa prima parte del video parleremo di tutto quello che è successo nelle tre gare di superbike e anche in quelle di super sport come al solito per immagini dicendo subito che sono state delle gare veramente incredibili e io minchino di fronte a con tanta bellezza e con tanto equilibrio soprattutto in una categoria dove l'anno scorso sempre sulla stessa pista avevamo assistito al trionfo di Alvaro Bautista l'anno scorso su Ducati quest'anno purtroppo la Ducati non ha conquistato vittorie, si è comunque piattato sul podio tre volte con Scott Redding tre volte terzo ma ci sono stati tre vincitori diversi nelle tre competizioni a partire dal turco Toprak Razgatioglu che all'esordio sulla Yamaha ufficiale va a vincere in volata una volata veramente clamorosa con quattro piloti coinvolti il turco ha la meglio dei suoi diretti inseguitori e sfrutta anche il passo falso di Jonathan Ray che nella prima gara è stato clamorosamente sbattuto fuori da Tom Sykes e il cannibale dunque si ritrova già a partire indietro in questo campionato con uno zero molto pesante in ottica appunto campionato del mondo 2020 Razgatioglu comunque legittima una grandissima vittoria una volata veramente sontuosa a quattro che lo vede dunque vincitore all'esordio appunto con la Yamaha ufficiale una gara di superbike veramente incredibile con addirittura sette piloti a un certo punto in lotta per la vittoria poi Tom Sykes che tra l'altro aveva fatto la pole in qualificazione centrando la cinquantesima superpole della carriera segno che la BMW sul giro secco è una moto veramente competitiva dopo poi ha avuto la meglio il turco in questa gara e ha fatto suonare l'inno nazionale turco la marcia d'indipendenza segno che il pilota con la carena numero 54 può sicuramente dire la sua forza addirittura per il titolo 2020 considerato che Jonathan Ray è partito male chi lo sa Razgatioglu insieme secondo me a Scott Redding può essere considerato uno degli outsiders di questa gara una gara veramente incredibile che tra l'altro ha avuto lo stesso medesimo copione nelle due successive a partire dalla sprint race una superpole race che ha la durata fissa di 10 giri i primi nove piloti classificati non solo acquisiscono punti ma hanno anche la possibilità di cominciare nelle prime tre fine la gara 2 e allora il cannibale ha deciso subito di riscattarsi dalla orrenda prestazione di gara 1 frutto di un contatto prima con Sykes vi ripeto e poi di una caduta frutto della troppa irruenza per una volta il cannibale ha fatto un errore va detto che comunque il cannibale probabilmente la gara 1 l'avrebbe anche vinta considerato il passo che beve era andato a recuperare già il gruppo degli inseguitori in poco meno di un giro quantomeno gli ultimi in fondo girava con un passo veramente sontuoso un passo che ha provato a imporre il nord irlandese già nella sprint race passo che però era stato replicato dagli altri piloti allora ancora una volta una grandissima volata soprattutto per legittimare lo status di campione del mondo fino all'ultima curva dell'ultimo giro però anche in questo caso Rasgatioglu era in procinto di vincere la seconda gara consecutiva invece Jonathan Ray con una grandissima manovra all'ultima curva a ragione del turco lo batte in volata per far risuonare God Save The Queen l'inno nazionale britannico l'inno nazionale britannico che tra l'altro va a risuonare nella terza gara ma non è Jonathan Ray a vincere Jonathan Ray fa secondo nella gara 2 la gara lunga della domenica pomeriggio va a vincere però Alex Lowe che era partito anche male rispetto alle aspettative era addirittura sesto a metà gara poi con un passo incredibile e una grande adattabilità del britannico in Kawasaki non solo a ragione dei diretti inseguitori Ducati e Yamaha in primis ma addirittura del compagno di squadra Jonathan Ray e dunque Alex Lowe festeggia anche in questo caso in volata sullo stesso Jonathan Ray la seconda vittoria in carriera nel campionato mondiale Superbike dunque ancora una volta va a risuonare God Save The Queen ma a sto giro non per il nord irlandese Jonathan Ray ma per l'inglese Alex Lowe e la cosa incredibile è che usciamo dal Gran Premio di Australia di Superbike non con Jonathan Ray al comando già questa è una notizia ma proprio con Alex Lowe in testa al campionato e adesso vediamo perché grazie alla schermata di Wikipedia inglese che come al solito ci darà una mano nella panoramica delle classifiche del Racing Podcast Alex Lowe è leader del campionato mondiale Superbike dopo ovviamente solo il primo appuntamento con 51 punti figlio di un secondo, un quarto e un primo posto Scott Redding comunque dimostra di essere anche lui un potenziale outsider per questo mondiale nella rincorsa a Jonathan Ray con tre terzi posti consecutivi segno che comunque ha fatto una buona prestazione sulla Ducati non ha ancora fatto quello step in più per andare alla vittoria ci vorrà del tempo secondo me però già il fatto che si parta con tre terzi posti è sicuramente positivo dimentichiamoci quello che è stato fatto l'anno scorso da Baudista quindi tifosi della Ducati e io mi ci metto in prima linea stiamo calmi, diamo tempo al lavoro della squadra Superbike Redding può essere un buon cavallo su cui puntare per un eventuale titolo mondiale e tre terzi posti soprattutto in un campionato così lungo come quello della Superbike che possono essere veramente grasso che cola il turco Toprak Razgat Yoglu complice un ritiro all'ultima gara e questo ritiro potrebbe anche essere pesato in modo importante alla fine del campionato è terzo nel mondiale Razgat Yoglu è a 34 punti con un primo e un secondo posto nonostante lo zero Jonathan Ray di fatto va a replicare gli stessi piazzamenti del turco l'unica differenza è che appunto per la somma delle due gare quella corta della mattina e quella lunga del pomeriggio il turco Razgat Yoglu ha due punti di vantaggio su Jonathan Ray il quinto classificato in campionato è Mikhail Vandermar che non ha fatto podi ma comunque rimane un pilota molto costante segno che comunque questo campionato Superbike sembra veramente essere molto equilibrato e al di là dei piazzamenti abbiamo visto tante moto diverse in lotta per i primi posti soprattutto nella gara lunga della domenica pomeriggio perché anche Honda che sembrava una moto molto enigmatica ha dimostrato di essere sicuramente una moto presente non ancora da vittoria però sicuramente la base è molto buona considerato lo schifo dello scorso anno Bautista che passa da Ducati a Honda fa due sesti posti inizialmente la moto giapponese sembrava adattarsi meglio su Aslam che comunque fa un ottimo quinto posto in gara 1 ottavo e dodicesimo nelle altre due competizioni sempre comunque appunti il pilota inglese comunque usciamo da un appuntamento australiano veramente spettacolare che ci ha di fatto ripagato del dominio di Bautista lo scorso anno se tutte le gare arrivano in volata così sicuramente assisteremo a un campionato incredibile e clamoroso sicuramente Kawasaki è una moto che può forse addirittura puntare su due piloti non soltanto su uno come l'anno scorso sicuramente Yamaha ha in Rasgatioglu il suo cavallo di punta Ducati evidentemente punta su Redding Davis purtroppo ancora una volta dimostra di far fatica è venuto fuori alla distanza comunque il buon Chaz con un quinto posto in gara 2 della domenica pomeriggio malissimo nella gara sprint bene ma non benissimo in gara 1 Davis da quando la Ducati ha cambiato modo di costruire la moto quindi dal V4 oltre ad aver fatto il V2 precedentemente il gallese ha veramente accusato il colpo e ha fatto più fatica ad adattarsi vedremo se con tanto lavoro e tanta pazienza potrà tornare minimamente ai livelli che le appartengono quindi sicuramente le prime 5 posizioni che ha recuperato in gara 2 parentesi sugli italiani due presenti in questa competizione Michael Rinaldi completa la gara 1 in decima posizione e al nono la gara sprint si ritira purtroppo in gara 2 frutto anche un contatto inizio gara Cari Casulo discreto in gara 1 dodicesimo posto per lui non ha punti nelle ultime due gare due ritiri di fatto lo costringono alle estreme retrovie della classifica tra l'altro è stato un parco partenti quello del campionato superbike di questa gara australiana ridotto già mancavano tre piloti per motivi di budget che sono Barrier, Torres e Mercado in più non è partito Chemier e nelle due gare della domenica nemmeno Laverty e Gareth Gerloff sono stati presenti nella competizione un parco partenti ridotto che comunque ha dato veramente tanti spunti attenzione dunque ai primi 5 in classifica con un occhio di riguardo sulla Honda e anche sulla BMW se ancora una volta potrà crescere perché Tom Sykes ha dimostrato ancora una volta di essere un super poleman da qualificazione in gara la BMW perde nella seconda parte di gara stiamo però attenti perché sembra veramente un campionato incredibile ed equilibrato il prossimo appuntamento sarà in Qatar tra un paio di settimane dunque lo Zail come secondo appuntamento stagionale il mio pilota del giorno comunque non posso che darlo al turco Topra Karasga Tioglu che ha dimostrato ancora una volta secondo me di dare dimostrazione del suo talento ha effettuato una grande vittoria involata avendo ragione di piloti molto più blasonati di lui come potrebbe essere lo stesso Redding come appunto è stato Jonathan Ray e tutti i contender che sono nelle prime quattro posizioni del mondiale la delusione purtroppo mi viene da dire Chad Davis perché comunque con lo Ducati che comunque ha dimostrato di essere competitiva nelle posizioni che contano almeno con Redding con Davis ci aspettava il salto di qualità c'è da lavorare ancora una volta per far tornare il gallese ai livelli che competono sorpresa del giorno diamo sicuramente merito a Maximilian Shape pilota cileno che è all'esordio assoluto in Superbike grandioso settimo posto per quanto riguarda il pilota sudamericano in gara 2 in Superbike un esordio sicuramente importante per il cileno al tempo stesso il pilota del giorno è stato secondo me anche Loris Baz come candidatura forte perché con un team indipendente a tratti in gara 2 era addirittura in testa segno che veramente la Superbike sembra almeno in queste prime battute un campionato molto equilibrato lo doveva essere anche la Supersport soprattutto perché c'era il cambio di categoria dal Randy Krummenacher che è passato da Yamaha a MV Agusta dopo aver vinto il mondiale lo scorso anno con il team Bardal-Evan Bross il team Bardal-Evan Bross che per la cronaca vince anche in questa competizione australiana se le immagini ci danno una mano vediamo Andrea Locatelli che è sempre su Bardal-Evan Bross all'esordio assoluto anche lui in Supersport quindi il team Ravennate va a vincere ancora una volta il Gran Premio di Australia come l'anno scorso cambia però l'interprete non cambia però il modo di vincere le gare alcune volte Krummenacher dava l'impressione di averne di più della concorrenza e Andrea Locatelli pilota di Alzano Lombardo quindi Bergamasco ha avuto la stessa impressione del Krummenacher che dominava in alcune competizioni l'anno scorso Locatelli ha avuto la capacità di imprimere un passo veramente incredibile soltanto Krummenacher poteva essere l'uomo che poteva impenserire il numero 55 italiano non è stato così però perché come vediamo dalla classifica del campionato Supersport Krummenacher di fatto si è ribaltato dopo appena una curva figlio anche di una falsa partenza in sede appunto allo spegnimento dei semafori Krummenacher finisce dopo una curva per le terre e lascia spazio di fatto ad Andrea Locatelli che si aggiudica la prima gara stagionale sono 25 punti importanti per il team campione di categoria ovvero Bardal e Van Bross e festeggia l'Italia perché Raffaele De Rosa con l'altra MV Agustin fa un clamoroso secondo posto e dunque suona a Fratelli d'Italia per i primi due piloti classificati terzo in classifica è Jules Clusel che comunque si mantiene un pilota costante e specialista di questa categoria attenzione a Clusel soprattutto nella seconda parte della stagione quarto Corentin per ora lì giovane francese da tenere d'occhio anche lui è stata una gara molto particolare quella della Supersport perché velocissimamente è stata una competizione con il pit stop obbligatorio per via dell'eccessivo consumo delle gomme dopo questi giri i piloti erano costretti a fermarsi e a dunque cambiare gomme come una gara di Formula 1 e dopo si sono rimiscolate un po' le carte non per Locatelli che ha avuto la brillante idea di fermarsi dopo gli altri e di imprimere il suo passo che era veramente velocissimo si sono però diciamo verificate alcune penalizzazioni in classifica soprattutto riguardanti Hannes Sommer pilota estore che comunque finisce sesto veramente bravo il pilota baltico penalizzato Isaac Vignales che era nelle prime posizioni penalizzato di 9 secondi addirittura e finisce decimo importante piazzamento comunque per Manuel Gonzales che è pilota campione di categoria Supersport 300 secondo me la rivelazione principale di questo appuntamento australiano festeggia l'Italia ulteriormente perché Federico Fuligni con la terza MV finisce 9 quindi top 10 immaginiamoci con Krummenacher in più cosa poteva fare la casa italiana che con il tridente che ha secondo me puntare con costanza alle prime 10 posizioni e a Krummenacher addirittura forse a vincere il titolo anche se con 12 gare da fare 1-0 già adesso potrebbe risultare pesante Andrea Locatelli merita comunque gli oneri e gli onori della cronaca per essere il pilota del giorno secondo me senza se e senza ma di questa competizione un passo incredibile per il Bergamasco che andrà in Qatar frutto del leader del campionato dopo aver dominato la gara australiana e dunque fatemi sapere che cosa ne pensate sia della Supersport che soprattutto della Superbike che andrà allo Zail ancora una volta vi ricordo con questa classifica con Alex Lowe's primo, Reading secondo, Rasgatiolu terzo e Ray quarto il saluto da parte di Matthew Torger ci vediamo in settimana prossima con il post gara del Gran Premo del Qatar di MotoGP e anche il video di presentazione del Mondiale Formula 1 2020